Amici del canale YouTube ben ritrovati con un nuovo contributo in questo 8 febbraio, giovedì 8 parliamo di mercato, parliamo di Antonio Conte, parliamo di futuro della panchina rossonera collegandoci anche ad alcune notizie che arrivano dall'estero innanzitutto ha parlato lo storico vice allenatore di Antonio Conte dichiarazioni di Stellini che appunto ha parlato della voglia che ha Antonio Conte di tornare ad allenare sappiamo tutti che in questo momento è un po' l'oggetto dei desideri di tante squadre del Napoli, della Roma, del Milan, addirittura anche all'estero lui dice Conte ha voglia di tornare in panchina ma dipenderà dal progetto che gli verrà proposto vuole un lavoro che lo stimoli come è già successo in passato quando tornerà lo deciderà il mister sono decisioni che spettano a lui e non mi permetto di andare oltre posso solo dire che c'è voglia di tornare e che parliamo di un grande allenatore che spende il 110% di sé ma su questo non avevamo dubbi sappiamo che quando Conte allena una squadra da fin troppo anche alla fine dei suoi mandati si sente sempre svuotato comunque la squadra che allena viene prosciugata nelle energie perché lui chiede tanto ai suoi giocatori e forse anche quello che servirebbe al Milan in questo momento poi Stellini dice su quale squadra sceglierà posso solo dire che sono tante possono essere tutte o nessuna visto il suo livello altissimo qualsiasi squadra può essere adatta ma la differenza la farà il progetto che eventualmente gli verrà proposto quindi lui insiste molto sulla questione del progetto e io credo che Antonio Conte stia provando ad aspettare il progetto migliore su Antonio Conte qualche giorno fa mi ho messo un po' la pulce nell'orecchio vi ho detto è più probabilmente lui che attraverso magari una chiacchierata con Slatan attraverso intermediari e procuratori perché anche lui è un procuratore si sta proponendo al Milan perché vorrebbe rimanere vicino Torino perché vorrebbe allenare in Serie A tornare in Serie A ma le piazze delle big sono quasi tutte coperte la Juve a Torino con la Juve con Allegri a Torino a Milano in Zaghi con l'Inter e Stefano Pioli a Milano con il Milan potrebbe essere una piazza giusta per lui quindi sembra che in questo periodo sia più lui che stia cercando di capire se il Milan ha voglia di cambiare ha voglia di andare a scegliere lui come figura piuttosto che una vera e propria intenzione da parte del club rosso nero questa idea che è stata esposta che ho esposto nei video nelle scorse settimane trovo un po' la sponda con alcune indiscrezioni che provengono dalla Spagna in quanto dalla Spagna si dice che Antonio Conte si sia proposto anche al Barcellona Barcellona che va a caccia di un allenatore perché sappiamo che Xavi lascerà il Barcellona a fine campionato a fine stagione anche il Liverpool con Klopp però è molto probabile che sia il Liverpool sia il Barcellona alla fine andranno su altri profili anzi addirittura pare proprio che Klopp sia uno dei desideri principali del Barcellona io penso che invece alla fine Klopp o si fermerà un anno oppure aspetterà la nazionale tedesca ma questo magari lo vedremo in futuro il fatto che Conte si sia proposto al Barcellona secondo le indiscrezioni che arrivano dal giornale Sport significa che lui sta davvero provando a rientrare prima possibile ma a scegliere il progetto più adatto alle sue qualità, al suo profilo il Barcellona secondo me è difficile lui vorrebbe tornare in Italia aspetta il Milan vediamo cosa succede con Stefano Pioli vediamo quale saranno le mosse del Milan ma è, se ci fate caso, il momento in cui stanno uscendo più voci su Conte dall'Inghilterra, da Londra, dalla Spagna, dall'Italia qualcosa intorno a Conte si sta muovendo e chi prende Conte in questo momento o nelle prossime settimane tra febbraio e marzo sono questi giorni in cui, i mesi in cui secondo me si concluderà con Conte secondo me farà un affare perché ritrova un allenatore voglioso un allenatore che ha grinta, che ha voglia, che ha entusiasmo che si vuole rimettere in gioco che vuole rimettersi in moto dopo un anno di inattività e quindi prende un allenatore parecchio motivato a proposito di passato oggi ha parlato invece Massimiliano Mirabelli che è l'ex direttore sportivo rossonero ha tirato di nuovo in ballo la questione Cialanoglu sappiamo che Cialanoglu l'ha portato lui al Milan quindi è legato a questa figura di Cialanoglu e lancia una frecciata al Milan dicendo che è stato il Milan a tradire Cialanoglu e non invece il contrario questo ovviamente è il suo punto di vista io direi anche basta perché effettivamente la storia la conosciamo tutti ragazzi il Milan voleva rinnovare il contratto a Cialanoglu ma le commissioni troppo alte chieste dal suo procuratore e soprattutto l'aumento di ingaggio erano in quel momento dei paletti insormontabili Maldini e Massara hanno provato a trattenere Cialanoglu non ce l'hanno fatta in molti hanno criticato anche la gestione del rinnovo di Cialanoglu proprio rinfacciando a Maldini e Massara di aver perso sia che sì sia Cialanoglu ma sappiamo bene ragazzi che a volte i procuratori fanno tra virgolette il doppio gioco chiedono tantissimi soldi di commissioni loro dicono no il nostro giocatore va a parametro zero quindi non devi spendere niente di cartellino ma se vuoi averlo devi tirare fuori tanti soldi di commissioni è successo così con Turam con Taremi è successo così con Chessy che è andato a prendere il suo agente 10 milioni di commissioni al Barcellona ed è successo così anche con Cialanoglu quindi le cose stanno così vediamo invece cosa dice Mirabelli dice via dal Milan solo per 500.000 euro in più Mirabelli risponde la verità è un'altra cioè che qualcuno voleva cancellare il lavoro che era stato fatto il Milan doveva lottare per tenerlo non lasciarlo andare via gratis come successe poi anche con Donnarum e Kessy i tifosi al Milan lo ammiravano oggi pensano che abbia tradito i rossoneri ma non è stato così è il Milan che non ha voluto trattenere Cialanoglu non Cialanoglu che se ne è voluto andare via dal Milan sbagliato se Cialanoglu avesse voluto rimanere al Milan avrebbe accettato le proposte del Milan che erano comunque a rialzo perché comunque il Milan andava a raddoppiare lo stipendio di Cialanoglu evidentemente quei soldi non bastavano è sempre una questione economica ricordate ragazzi chi vuole rimanere, chi vuole rinnovare in un club rinnova, va in sede, firma e resta è successo a Benasserre, è successo a Leao è successo a Tevernandez non è vero che il Milan voleva cancellare la storia di Mirabelli e quindi per questo hanno mandato via Donnarumma Kessy e soprattutto Cialanoglu perché comunque erano giocatori validi perché comunque il Milan dopo anni non ha trovato giocatori con quelle caratteristiche e ogni tanto vengono citati come esempio di giocatori che il Milan ha perso la verità è solo ed esclusivamente economica e il Milan più di un certo tot non poteva andare più di una certa soglia non poteva superare e questa è la realtà dei fatti quindi il tradimento alla fine è di chi non ha accettato l'offerta del Milan è andato dall'altra parte del naviglio a guadagnare più soldi ma soprattutto più commissione la questione della commissione non viene quasi mai citata ma in realtà il noccio della questione sta proprio lì detto questo direi anche basta cosa particolare oggi non c'è stato allenamento al centro sportivo rosso nero si sono allenati solamente giocatori acciaccati, giocatori infortunati Malik Chao, Kalulu, Tomori, Caldara, Pobega hanno svolto tutti allenamento a Milanello al centro sportivo rosso nero non hanno invece svolto allenamento gli altri giocatori, quelli sani per loro c'è stato un giorno di riposo un giorno di libertà concesso da Stefano Pioli scelta un po' particolare però l'importante è che poi la squadra faccia risultato domenica sera contro il Napoli un abbraccio a tutti, ciao